Importante sforzo da parte dell'Ast, l'azienda siciliana Trasporti, per fronteggiare l'emergenza della temporanea e parziale chiusura dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania a causa dell'incendio divampato lunedì. L'azienda, a seguito dell'intervento del presidente della regione Renato Schifani, di concerto con l'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Arrico, ha messo a disposizione 41 mezzi che collegano gli scale di Birgi, Punta Raisi e Comiso con Catania. L'obiettivo è quello di ridurre i disagi dei passeggeri che atterrono in questi scali per poter poi raggiungere più facilmente le proprie destinazioni. Proprio ieri sono stati immatricolati 24 nuovi mezzi che hanno integrato la flotta già messa a disposizione e il loro primo giorno di attività è coinciso proprio con questa emergenza. L'Ast ha disposto all'invio di nuovi autobus a Birgi per l'arrivo di migliaia di passeggeri e consentire inoltre i collegamenti con Catania e Palermo. Il servizio è gratuito per i passeggeri. Questo è il piano messo a punto a Ast. Nove gli autobus che partono da Catania diretti a Punta Raisi, altri due invece da Punta Raisi raggiungono Catania. Altri sei autobus assicurano il collegamento da Trapani, Birgi e Catania. Il piano è già scattato e proseguirà fino a quando non sarà cessata l'emergenza. L'Ast si è anche coordinata con le realtà locali per consentire gli spostamenti tra Fontana Rossa e Comiso. Uno sforzo per l'azienda per cercare di ridurre i disagi ai tanti viaggetori i cui voli sono stati dirottati da Catania agli altri scali. Grazie. Grazie.